Un babbo natale in miniatura Ecco, è per te Nanni, perché hai fatto il bravo Grazie Ma è una Polaroid 1000 L'apparecchio più semplice del mondo Ecco così, però più vicini, è facile Basta premere il pulsante e la foto, eccola qua, sviluppata in qualche minuto È stupendo Guardate, guardate che colore Polaroid 1000, l'apparecchio più semplice del mondo